Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito, come facciamo di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. PM10, approvata la nuova legge regionale. Aumento delle tasse, Gianni risponde all'interrogazione di Landi. Fuori dal Comune, concluso il progetto di rigenerazione sociale con i giovani in primo piano. Approvata a maggioranza dall'Aula di Palazzo del Pegaso, la proposta di legge che introduce le nuove disposizioni per il rispetto dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto nelle aree della Toscana, dove questi sono stati superati per un numero di giorni maggiore di quello consentito. Ad illustrare l'atto la Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, Lucia De Robertis. Una modifica alla legge 74 che imponeva già, tenendo conto dell'infrazione che abbiamo come regione toscana, per l'emissione in area di PM10 oppure di biossido. Oggi siamo intervenuti soprattutto sulla parte che riguarda la piana lucchese e Valdinievole, dove in quei territori ci saranno da parte dei sindaci, ci sono state da parte dei sindaci, dei divieti di accensione di cammini nelle abitazioni, nelle sole abitazioni dove il cammino non è unico sostentamento dal punto di vista del riscaldamento, quindi quelle abitazioni sono escluse, verranno emesse delle ordinanze sindacali, quindi da parte dei sindaci, che vieteranno oppure limiteranno la possibilità di accensione per quei cammini che sotto le tre stelle, è così una classificazione che viene fatta normalmente, emettono in area queste polveri che sono davvero dannose per la salute. Questo risultato viene dal progetto PATHOS tenuto dall'Università di Firenze, da questo studio si evince una responsabilità di questo tipo di attività, quindi dell'accensione del cammino, di oltre il 53%, l'altro 47% deriva dall'erosione della crosta terrestre, ma qui naturalmente la regione toscana non può farci nulla. C'è un problema di salute, quindi cosa ha deciso la regione in collaborazione con il Ministero? Di intervenire in quei territori attraverso dei bandi che verranno fatti, i cittadini possono sostituire o ammodernare il cammino con nessun costo, tenendo conto dell'Isee, perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori. Favorevole al provvedimento Italia Viva? C'è stato un miglioramento di un testo, un lavoro lungo, noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a un quadro normativo che imponeva lo spengimento dei caminetti, soprattutto nelle aree di Pistoia e di Lucca, e la nostra mozione, il nostro atto ha fatto interloquire l'assessore con il governo, abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa, il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria, è evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale e nello stesso tempo condividendo e convivendo con un quadro ovviamente infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno, quindi serve anche un po' di prudenza, è evidente che adesso dalla bella stagione non ci saranno più un problema così tassativo, la questione poi ripartirà a settembre, nel frattempo abbiamo un quadro normativo adesso più certo che ci consente di agire, di non avere delle sanzioni, di spendere dei risorsi per fare elementi di incentivazione, per sostituire quei caminetti che non sono più a norma e credo che questo possa essere un tempo debito per fare questi interventi, valuteremo poi a settembre se siamo nelle condizioni di proseguire o rendere efficace la normativa o se chiedere eventuali ulteriori dilazioni poi è evidente che poi ci sarà un momento in cui la normativa diventerà efficace. Voto contrario è stato espresso da Fratelli d'Italia. Se Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023, quanto stamani ha dibattuto in aula sulle PM10, è probabile che nella Piana di Lucca sarebbe venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è, Fratelli d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni adempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze del personale che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello delle PM10, siamo appunto a capo. grandissime disponibilità a ragionare con l'opposizione quando non si hanno risposte e in altri casi, l'abbiamo visto per il nome dell'ATC, l'assoluta incommunicabilità per tutto quello che invece fa sostanzialmente il gioco politico di questa maggioranza. Massimiliano Baldini esprime la posizione della Lega. È stato evidenziato in primo luogo da parte degli amministratori comunali auditi nelle commissioni che hanno lavorato prima del Consiglio regionale di oggi e sono stati evidenziati i limiti di questa normativa. I vigili urbani non sono in grado, non hanno la formazione adeguata, è difficile fargliela, sono un numero esiguo specialmente nei comuni piccoli e hanno anche probabilmente delle limitazioni giuridiche dal punto di vista dell'accesso agli immobili dei cittadini per svolgere i controlli che chiede la regione toscana. Allo stesso modo, gli studi che sono stati fatti sulla quello che è le ragioni dell'inquinamento, in particolar modo penso alla provincia di Lucca, penso alla provincia di Pistoria, ma anche a Firenze, che sia da addebitarsi per la maggior parte ai camini è questione largamente discutibile. Tant'è vero che anche nei momenti in cui i camini non erano accesi perché abbiamo goduto di una temperatura molto alta, ebbene quelle centraline misuravano numeri che sforavano le limitazioni previste. E anche in questi giorni è notizia che proprio in Lucchesia, a seguito del fatto che un'azienda molto importante di cellulosa ha preso fuoco, ebbene quella situazione che è da parificarsi sostanzialmente a una grande abbrusciamento di legna, non ha dato luogo a variazioni sulle centraline. Quindi in realtà e molto probabilmente bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità, dove anche qui la regione toscana è in forte ritardo. Nessun addizionale IRPEF, nessun taglio ai servizi. È questa in sintesi la risposta del presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, all'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi, risposta che scongiura di fatto l'ipotesi di aumento dell'imposizione fiscale in Toscana. La interrogazione che mi è stata rivolta dava per indotto in alcune dichiarazioni del divattito politico che vi è un aumento delle tasse, segnatamente si faceva riferimento a quello che è l'addizionale IRPEF, o il taglio dei servizi. Nulla di più falso, nulla di più assolutamente da escludere da parte mia. Anzi, l'impegno della regione toscana è stato quello di salvaguardare quello che è il pareggio di bilancio della sanità con la consapevolezza che mettiamo risorse proprie della regione, oltre quelle del fondo sanitario regionale che deriva dal fondo sanitario nazionale. E quindi noi dobbiamo chiudere il bilancio 2022 con le misure di aggiustamento entro il 30 aprile del 2023 e lo faremo se non dovessero corrispondere alcune voci promesse con la garanzia e la copertura di variazione di bilancio per quote del bilancio ordinario della regione. Quindi niente addizionale IRPEF, niente taglio dei servizi. Il presidente Cianni ha risposto alla nostra interrogazione sul fatto che il neoeletto segretario del PD Fossi aveva dichiarato che ci sarebbe stato un cambio di passo e aveva fatto anche pensare che magari sui ticket sanitari o su altri tipi di interventi si potesse mettere le mani nelle tasche dei toscani. Dobbiamo dire che Fossi non ha trovato sponda in Consiglio regionale, né tanto meno nella risposta del presidente Cianni che è stato molto chiaro nella sua risposta e affermazioni dicendo che non intende assolutamente aumentare le tasse e quindi quello che è la dinamica interna al PD lo scopriremo nei prossimi mesi ma sicuramente ci fa pensare che Fossi dica delle cose ma poi alla fine all'interno del PD manchi chiarezza. Se però a noi rassicura il fatto che le mani nelle tasche dei toscani la giunta regionale non ce le mette. Sono stati oltre 150 i giovani under 30 protagonisti di Fuori dal Comune. Il progetto, finanziato e promosso dal Consiglio regionale nell'ambito degli interventi per l'aggregazione giovanile è realizzato da Oxfam Italia e dalle associazioni giovanili Aretine, Farrago e Arezzo che spacca. Tre giorni di laboratori gratuiti che si sono tenuti a Siena, Arezzo e Grosseto con le ragazze e i ragazzi che hanno avuto la possibilità di sviluppare le proprie competenze nel campo cinematografico partecipando così al lavoro della troupe creando tre video che sono stati proiettati nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso durante l'evento di chiusura. Sono contento che questa iniziativa che abbiamo svolto fianco a fianco ad Oxfam sia portando i frutti che ci aspettavamo, coinvolgere i giovani, renderli protagonisti del presente e del futuro, costruire le condizioni per creare socialità e dare risposte ai territori. Territori diversi che si sono messi insieme, territori con storie differenti che sono riuscite a costruire una proposta comune. Abbiamo trovato innanzitutto una voglia di creare una comunità, tante persone grazie a questa esperienza hanno scoperto che incontrare gli altri è una cosa bella, costruire il proprio futuro insieme alle altre persone è meglio che costruirlo da soli anche in discipline artistiche che di solito puntano allo sviluppo solamente personale. Noi abbiamo provato a mettere a sistema i nostri percorsi di appartenenza, la musica e il cinema, al servizio della costruzione di una comunità che punterà a essere sempre più regionale e quindi speriamo di andare avanti con questo progetto che è stato veramente bellissimo. È stata un'esperienza bellissima soprattutto perché siamo riusciti a mettere in pratica quello che noi abbiamo appreso in tantissimi anni di esperienza e l'abbiamo portato a disposizione di questi ragazzi, di questi progetti musicali con i quali abbiamo fatto proprio un percorso formativo mirato sia alla costruzione della band in sé da un punto di vista più formale sia da un punto di vista pratico nell'andare ad applicare delle migliorie musicali in quello che già erano dei progetti bellissimi appunto sia Siana che a Grosseto che a Rezzo. Sostanzialmente abbiamo fatto tutto ciò sia per dargli un futuro già migliore e avvantaggiato nel mondo della musica sia per andare a concludere questa bellissima esperienza all'interno della cornice del Lab 2030 d'Arezzo con un concerto finale con tutti e tre i partecipanti. Tra i partner del progetto coinvolta anche Oxfam Italia. Innanzitutto è stata un'esperienza fuori dal comune, così come recitava il titolo del progetto dobbiamo dire che poi si è davvero concretizzata come un'esperienza eccezionale perché proprio i ragazzi hanno risposto in modo profondamente emotivo e non ce lo aspettavamo. Noi abbiamo fatto delle full immersion di tre giorni in queste città dove abbiamo seminato e stiamo cercando anche di raccogliere tuttora adesso perché abbiamo mantenuto dei rapporti molto stretti con i gruppi delle tre città. L'intento era quello di rigenerare spazi e competenze e abbiamo capito che con un piccolo sforzo in più e con un po' di continuità tutto questo è possibile anche negli spazi più abbandonati. Un progetto che ha reso i ragazzi coinvolti coprotagonisti della riqualificazione di un'area urbana un percorso reso possibile grazie ad una legge approvata dal Consiglio regionale. Va riconosciuto che è stata un'intuizione. A me avevo in testa questa idea di rendere i ragazzi coprotagonisti di una progettualità uscire di casa a dare loro uno spazio, uno spazio comune che dovesse essere nelle città un'area urbana da riqualificare, non da riqualificare né con soldi del PNRR né con opere pubbliche che molte volte sono ovviamente prive di emozionalità ma provare con una dimensione relazionale a dare emozione ai ragazzi. Questo era l'obiettivo che mi ero posto quando ho dato vita a questa legge condivisa poi dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio regionale uno stanziamento economico importante ma nel contempo non chissà cosa ma che però ha dato un moltiplicatore straordinario perché ha dato vita a tanti giovani che soprattutto dopo la pandemia hanno trovato dei livelli di socialità nuovi non scontati, relazioni e poi da questo possono nascere tante cose e l'idea di come magari un'idea trasformata in elemento concreto può veramente vitalizzare le aree urbane delle città può rendere i ragazzi protagonisti e soprattutto la regione toscana e il Consiglio regionale creare un'intuizione che veramente li ha resi protagonisti. Ad Arezzo c'è sempre stata questa collaborazione tra quelli che oggi sono gli enti del terzo settore e la pubblica amministrazione. Quando i ragazzi mi dicevano che in realtà non è proprio così semplice non tanto fare le cose quanto pensare di organizzarle beh dico dobbiamo fare qualcosa e quindi poi è venuto fuori questo progetto ringrazio anche il Consiglio regionale per averlo approvato e appunto è l'auspicio mio e quello dei ragazzi che possa continuare magari anche essere esteso in altre province. Questa era la nostra ultima intervista Cronache e Commenti torna la prossima settimana grazie per la cortesia e attenzione.